Toma in servizio al cliente, buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, sto avendo un problema con un pedale elettro Harmony X Big Muff che ho comprato da voi recentemente si accende ma spesso l'effetto non funziona, non riesco a capire il perché Ok, mi dispiace sentirlo, una domanda, ha provato ad utilizzare l'alimentatore originale consigliato nella descrizione del sito? Sì sì, ho acquistato proprio l'alimentatore consigliato nella scheda prodotto del Big Muff che è proprio l'alimentatore elettro Harmony X 9V da 200mA se non mi sbaglio Ok, in questo caso le vorrei chiedere gentilmente il suo numero cliente o il numero d'ordine se l'ho a portata di mano Sì, sì, aspetti soltanto un attimo che lo trovo Dunque il mio codice cliente è 136724 Ok, guardi allora in questo caso vorrei chiederle se ha la possibilità di girare un breve video del difetto che sta riscontrando Sì, non c'è problema, lo posso fare col telefono inquadrando il pedale per farvi vedere il problema Sì, sarebbe perfetto, così lo verificheremo insieme ai nostri tecnici, ai nostri esperti ed eventualmente possiamo vedere se è qualcosa di risolvibile a distanza oppure l'unità deve rientrare per essere riparata Perfetto, faccio subito il video e ve lo invio tramite mail Ma guardi, le invio immediatamente un'email all'indirizzo collegato al suo ordine e può rispondere con il video in allegato Perfetto, grazie mille, lo faccio subito, buona giornata Buona giornata anche a lei Sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica Perfetto, grazie mille, lo faccio subito Perfetto, grazie mille, lo faccio subito